Si è svolto a Mineo un interessante seminario sulla tristezza degli agrumi, una patologia ad eziologia virale altamente contagiosa. Dottore Mistretta, tema del convegno di questa sera, la tristezza degli agrumi. La tristezza degli agrumi chiaramente non è uno stato d'animo, ma è semplicemente una malattia di origine virale, fortemente epidemica, il cui vettore è l'afide sostanzialmente, che ha distrutto interi patrimoni agrumicoli. Nel mondo si parla di più di 80 milioni di piante di agrumi. Non è una novità, perché in Argentina e in Brasile l'epidemia è scoppiata negli anni 30, quindi parliamo di parecchi anni fa. In Spagna la prima epidemia nel 57, la Spagna che è molto vicina a noi come condizioni climatiche e ambientali. Pensate, l'intero patrimonio agrumico lo spagnolo è stato innestato su Ranciamalo e è andato distrutto, 40 milioni di piante di agrumi. Già in Italia il problema si conosceva e abbiamo dei ritardi enormi nell'affrontare questa patologia. Tanto è vero che proprio gli illustri professori di questa sera, tra cui il professore Davino, ma anche il professore Catara, nel 2001 parlarono di focolai importanti in Italia e in Sicilia. Quindi il ritardo che noi, il gap che dobbiamo ovviamente a questo punto superare è enorme. È una malattia che prevede la lotta obbligatoria. Un DM del 96, un decreto ministeriale, prevede che questi focolai c'è l'obbligo della denunzia. Se non lo si dovesse fare c'è il penale. Ma questa è una misura che non funziona da sé, perché se non aiutiamo gli agricoltori a riconvertire, investendo economicamente, chiaramente nessuno dinunzia i focolai e la malattia ovviamente prende piede così come sta accadendo. Questa è la triste realtà e chiaramente bisognava intervenire e bisogna intervenire. Questa sera il convegno avvertirà ovviamente su alcuni aspetti, su alcune tematiche importanti. Da un lato parleremo della diagnosi, come conosce la malattia, identificarla e anche della possibilità di arginare in un qualche modo la patologia, ma anche delle possibili soluzioni di politica agricola. Io credo che non è più possibile attendere quelli coloro che dovevano fare e che sono stati enermi. E quindi forse quando già è tutto conclamato è il territorio che deve fare da sé, come al solito. E quindi io propongo sicuramente una cosa più importantissima, cioè il coordinamento delle aree agrumetate, dei sindaci e degli enti locali, a partire ovviamente dai comuni della provincia di Catania e di Siracusa, che sono le due province più agrumetate d'Italia, che insieme ovviamente all'associazione di categoria degli agricoltori e dei braccianti che rischiano di perdere il posto di lavoro, pensate che sono 70.000 gli addetti diretti e più di 240.000 gli addetti indiretti che girano attorno alla grumicoltura in Sicilia, che rischia di saltare veramente un tessuto sociale ed economico della nostra terra. Al seminario hanno preso parte diversi sindaci del Comprensorio Calatino ed alcuni esperti del comparto agrumicolo.